Che nessuno lutti, che nessuno prenda armi e che nessuno piccone gli altri, mi raccomando massima serietà ragazzi, massima serietà Maracaibo Allora raga io chiudo gli occhi, non voglio vedere nulla, chiudo gli occhi, mi reco verso il ponte, però faccio il giro largo In pratica vi sto flencando, arrivo, qualcosa la vedo, qualcosa la intravedo perché il muro si stava buildando Ah, qui? Oh, no, no, non volevo guardare Ok, va bene, dai Chiodi, chiodi, chiodi Guarda, 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 guarda la mimetica mia Ma perché? Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video di Fortnite Quest'oggi siamo in un server privato con 20 player E soprattutto non so che skin stanno utilizzando perché sono tutte quante dietro quel muro Quindi le andiamo a scoprire assieme Andremo a coppie e quindi facciamo partire subito questa prima coppia Vediamo con che cosa ci andranno a deliziare Prego, prego, prego Prima coppia della sfilata a tema Halloween di oggi Let's go! Apriamo da qui oppure parte uno da sinistra, non lo so Apriamo da qui, dai Apri, apri Prego! La sincrono non è perfetta È meravigliosa Ragazzi, spaccate Per me è un sì, è un sì pieno È un sì pieno Prego, prego, prego Continuate, continuate ad andare in quella maniera così Via, via, via Andate, andate, andate Seconda coppia Mamma... Ragazzi, io vi amo Io vi amo Dai, si è alzato lo standard Dai, dai, dai GG a voi ragazzi Vampire e vampirozzo Assolutamente sì Vediamo Intravedo qualcosa No, comunque dobbiamo cambiare il muro Devi mettere legno Perché questo qui mi fa spoilerare troppo Quindi, allora, metti il muro e io mi giro Metti il muro di legno e mi giro Salve Oh, la capretta non esce mai, eh Vediamo un pochettino Allora, intanto Io già ho visto una cosa che Non mi piace Questo piccone non si agisce alla skin Neppure il mantello Batman Avete fatto Ghoul Trooper più Batman È vero È vero Vabbè, lei è carina, ci sta Quasi monocolor No, è monocolor Però, 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 però Però non sono rosa, quindi si killano Quarta coppia Prego Questa quarta coppia è formata da Ah, mi giro Avete fatto questa selection A randomissimo Vex, cosa mi combini? Antonio Ok Assolutamente no Mi dispiace per voi, ragazzi No, no, non matchava Lei non è assolutamente da Halloween Bel piccone matchato Vediamo lei Ok, vabbè, proprio un set Carinissimo Carinissimo Ragazzi, una cosa che dobbiamo dire Non stiamo guardando le wrap Perché le skin che abbiamo già selezionato Vanno oltre Vanno oltre lo standard Proprio di bellezza Che ci aspettiamo Che è il suo piccone? Fratello mio Dai Ragazzi avete fatto Guarda che bello, però Sta cercando di convincermi Non lo so, qua sono davvero indeciso Intanto la safe Ok Secondo me Per ora possono passare Vada Per ora Vada, vada Apre la porta Per ora, ragazzi E dopo mi sa che Pem, pem Skin di Halloween Sì Lei è bellissima Le pre di luna Le pre di volpe Carinissima Perché ti sei portato lui Perché ti sei portato il nostro Orange Perché, perché, perché Che poi, raga I piccoli non si possono Proprio guardare Con ciò che avete portato Allora, scusa Possiamo andare avanti E basta Sai che sto Sto backpack Ci sta bene Con la skin Che hai portato Voglio vedere Sono curioso Che wrap avete scelto Ragazzi Sono curioso Giusto così Per vedere Borderlands Oh Caro mio Però No, no, no Space Simox Grazie mille Ragazzi Ultime Ce ne andiamo Marito E moglie In realtà Non lo so Sai Anche lei Non è male Non matchano come skin Però va Andate 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 Il backpack è carino Molto carino Allora Ultima coppia E si va Belli Cioè Bello uno Bello l'altro Grandi raga GG Oh Stesso piccone Vediamo che wrap Avete utilizzato Giusto per salvarvi Lui Grazie raga Grazie Grazie per deliziarmi Con queste bruttezze Con queste bruttità Ragazzi Avete visto che mi sono acceso Ho acceso il mio backpack Poi dite che sono un demogorgone Guardate Secondo girone Secondo turno Come lo volete chiamare Ma comunque quel che è Andiamo ragazzi Andiamo a selezionare questi personaggi Chiudiamo qui la porta Vai tu sei pronto You ready Let's go Andiamo Cosa devi dire Cosa devi dire Sperando che ti si senta bene Poi nel video Vai All'inizio non gli abbiamo visto Neanche il piccone Scusate Fatemi vedere il piccone Soprattutto la wrap Che avete utilizzato Ora andiamo in Seminazione Ok Avrai la stessa wrap Stessa wrap Eh metti Vai 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 Prendi Bravi Avantissimo Fermatevi lì al muro Dai Grazie Gentilissimi Suo Non è quello del pack È quello di È quello di Del cowboy Aspetta si chiama Si chiama Morta fiamma Morta fiamma Morta fiamma Oh ci ho pensato prima Perché la volevo mettere io Quella skin Prego Chiudiamo 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 Allora È bellissima questa coppia È bellissima Perché diciamo Abbiamo una parte buona Super simpatica Più la parte cattiva Marcia è quasi morta Se non già morta Però 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 Non è agli standard Delle skin che voglio già Ok Ti ringrazio per Ok tema Halloween Va benissimo Però ti ringrazio per aver scelto Questa wrap Perché mi permetterai Di eliminarti Grazie mille Ti voglio bene Caro mio Bella shout 24 Gli ho fatto 24 Da qui Ci penso io Ci penso io Ci penso io Prego Avanti Ivan Pirozzi Ivan Pirozzi Salve Coppia perfetta Marita e moglie Ragazzi Vampira Vampira Ma ha detto che lui ti Mi hanno detto Non è che me l'ha detto lui È che ogni sabato sera Purtroppo Va a trovare un'altra vampira Però 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 Attenza Ehi Lei invece mi hanno detto Che va dal conte Dracula Cosa ne pensi Allora il piccone Vediamo Allora abbiamo vista la wrap Sul loro 2 prima Procediamo con la wrap Ah No Perché questa Ah vabbè ci può stare Dai Non so che cosa avrei messo Sul violaceo Però non è male Io direi che possono passare Sì Possono passare Grazie mille Avanti Salve Prego 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 Si infilino i signori Si infilino Ok Non mi ricordo Non mi ricordo le wrap Di loro due però eh Vai Ok Ragazzo faccina E paci rex Grazie mille a tutti e due Ragazzi Sono rimasti in 4 2 Contro 2 Let's go Abbiamo il team dei vampiri E il team di bombardiere E poi Jonesy 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 Vampira Andata male Jonesy Kevin Ma io perché mi sono spento ragazzi Il mio backpack si è spento Io prima di procedere Voglio qua sotto Tra i commenti ragazzi Secondo voi Qual è la coppia Che dovremmo scegliere Noi Cioè qual è la coppia Che secondo voi Merita di vincere All'interno di questo video E mi raccomando Spolliciate se volete Sempre E sempre più video Con questo format Perché ho visto che Vi piacciono Sono ben seguiti Vi intrattengono E quindi vi Non lo so Votate Mettetemi 2-2 qui E 2-2 qui Non so che cosa abbia detto Ma comunque Avete capito Infila ragazzi Infila di fronte a noi Allora 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 Voi Fermi Fermi Non ha detto Martex Dice Vi devo killare Ciao Presentatevi Con un altro emot Perché quella lì L'avete utilizzata Al primo girone Al secondo girone Primo turno Secondo turno Andiate Un altro emot Sincronizzata Avete un 30 secondi Soprattutto preparatevi Anche voi qui dietro Mi raccomando Una coppia di fronte All'altra Ok bravissimi Allo scadere della tempesta Ragazzi Voglio che seguite La vostra emot Ok Le emot che avete selezionato Per la coppia Vai Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Woo Ok fammi vedere questa parte Lui sa No purtroppo non aveva L'emote Non aveva l'emote Loro Loro spaccano Loro spaccano Quindi GG a voi Spaccate Dov'è Pollice in su Però voglio dare un'altra possibilità A loro Voglio vedere che cosa si inventano Dai ragazzi Dai Fateci sognare E soprattutto Selezionate un emot Che possiate entrambi Dai A 020 ragazzi Controllate il timer della tempesta 020 Tutte e due un emot Dai Sincronizzata Belli miei 5 4 3 2 1 A te l'onore Gabriel Salve Ok Oh che moriamo 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 Ok Ci siamo ragazzi Ci siamo Allora Gionese E bombardiere Non scappare Non sono qui per killarti Assolutamente Avete vinto raga Vi stringiamo la mano Dammi la manina Ti voglio stringere la mano Ah Complimenti Complimenti a te Complimentissimi Brother Complimentissimi Io ringrazio tutti i partecipanti Che all'interno di questo server Hanno portato una skin A tema Halloween Quindi Grazie mille A loro due Grazie mille anche a tutti Coloro che hanno partecipato E che purtroppo Sono stati eliminati Gionese e bombardiere Complimenti Complimenti Ragazzi miei Vi do l'onore Di Killarci GG ragazzi Vediamo chi sono Mamma mia Neppure il tempo di tirlo Già a sparare Bruni J E poi chi è il suo compagno Non mi ricordo GG a Bruni J Vediamo Vediamo se mi fa aspettare È morto Ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando Lasciate tantissimi Ma tantissimi like A questo video E soprattutto Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Cosa importantissima Condividetelo Con tutti i vostri amici Noi ci vediamo In un prossimo video Oppure in una prossima live Un salutone da Martex CHIABRDAS IScrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.